numero 22, il consiglio della credenza conducente Walter Reirosa capocarro Pier Giorgio Docchi Pariglia, cavalli Frisoni mantello nero, finimento inglese, colori del carro bianco, grigio, argento la grafica sulle fiancate rappresenta delle venute della città d'Ibrea il castello e il ponte vicchio i cavallieri rappresentano gli uomini del tiranno lo stemma è il palazzo della credenza altra e più iconica della nostra città dove si riuniva nel settecento quello che era il consiglio deve fermarsi, deve fermarsi per ricevere un presente un attimo ancora la credenza si riuniva appunto il consiglio della città composto da settanta consiglieri che gestivano le sorti